Dieci avvisi di garanzia sono stati emessi dalla procura di Messina nei confronti di sei tra amministratori e proprietari di un complesso alberghiero di alcune abitazioni. In Contrada si l'emialta due dirigenti del CAS e il sindaco il capo ufficio tecnico del comune di Letoiani per la frana che il 5 ottobre del 2015 aveva colpito la zona arrivando ad ostruire persino l'autostrada. Sono indagati a vario titolo di disastro ambientale, omissione, datti d'ufficio perché le acque bianche provenienti dagli edifici oggi sequestrati non erano convogliate scorrendo il costone. Secondo i consulenti nominati della procura avrebbero causato la frana di Letoiani. Abbiamo verificato le cause dell'evento franoso da un punto di vista tecnico con l'ausilio di una consulenza specifica e una verifica anche a mezzo di personale specializzato della protezione civile. Abbiamo verificato che le fratture nel costone ancora sussistono e che quindi è necessaria, che sussiste la causa dovuta agli sversamenti di acque bianche non convogliate a norma che provengono dai complessi che sono sovrastanti il costone di roccia. Chiaramente questa situazione è una situazione che ha imposto il sequestro visto l'esistenza comunque di un rischio. L'entità di questo rischio verrà immediatamente valutata perché trasmetteremo tutto agli organi competenti sia della protezione civile sia del CAS e quindi si verificherà come mettere in sicurezza non soltanto il costone in sé per sé ma anche ciò che ha condotto a queste fratture del costone, cioè direi gli impianti di sversamento che non sono a norma. Abbiamo cercato di fare un lavoro maggiormente comprensivo di tutte le possibili cause di questo evento. Potrebbero essere a rischio anche le zone limitrofe? Le zone limitrofe sono al momento oggetto di accertamento, onde verificare se per caso le modalità di sversamento non siano perfettamente regolari e tutto, questo noi non lo possiamo dire, possiamo dire che c'è un'attività molto intensa di verifica e di accertamento anche per scongiurare possibili danni ambientali che sarebbero veramente gravi in questo tipo di costa. Quel tratto è chiaramente stato chiuso e quindi ovviamente abbiamo la carreggiata sottostante. La messa in sicurezza era stata già programmata per quanto riguarda il materiale e tutto e lo sarà ulteriormente. Al momento se evitiamo questi sversamenti e se gli enti competenti provvederanno al più presto, i rischi potranno essere contenuti. Ma come organo tecnico abbiamo necessità che le persone competenti, ribadisco, di protezione civile, cassa, si esprimano in maniera compiuta.